come funziona la legge della trazione l'universo dovrebbe rispondere a modo tuo puoi determinare il tuo destino e questo che significa essere umani se trascendi le limitazioni della tua mente logica ciò che è lì e qui ciò che è qui e lì quindi la mia domanda è se qualcuno invia ok vuoi che la tua vita sia in un certo modo invidi segnali positivi il che è fantastico ma a chi all'universo all'universo in quale direzione su o giù è questo che chiedo come funziona la legge della trazione la legge della trazione è qualcosa che accade tra opposti due magneti o sai due posti maschio e femmina o in qualsiasi modo la legge della trazione è sempre tra opposti non è così dal polo nord al polo sud da questo quello funziona così giusto ora parli dell'universo quindi questo significa che sei un'aliena in questo universo parte dell'universo se parte dell'universo cosa c'è da essere attratti allora perché dicono che puoi progettare il tuo destino puoi determinare il tuo destino dovresti è questo che significa essere umano giusto vedi se fossi venuta qui come qualsiasi altra creatura su questo pianeta hanno dei cicli compulsivi vivono seguendoli per loro va bene perché tutto ciò di cui sono capaci in realtà se osservi la tua vita non fai nulla di molto diverso da ciò che fanno le altre creature nascono nasci cresci crescono si riproducono ti riproduci muoiono muori niente di molto diverso ma queste stesse semplici cose le possiamo condurre consapevolmente questa è la cosa significativa di essere umani nel momento in cui conduci diciamo che dirigi la tua mano consapevolmente ora questa mano farà ciò che vuoi non è così non ti siederai semplicemente qui e farai così ora questa mano farà ciò che vuoi supponi che tu conduca il tuo pensiero consapevolmente ora il tuo pensiero farà ciò che vuoi se il tuo pensiero facesse ciò che vuoi come manterresti te stessa beata o infelice beata beata se sei beata andrai alla ricerca della felicità quindi queste cose che la gente pensa siano le cose più grandi nella propria vita essere pacifici gioiosi assurdità non significherebbero niente per te perché sei beato ma non puoi dirglielo sentiranno insultati devi devi giocare con i toni ma essenzialmente se il tuo pensiero e la tua emozione prendessero istruzioni da te ti manterresti a livello più alto di piacevolezza qualunque sia non è così corretto se ciò accadesse tutto il tuo processo vitale giungerebbe a essere a suo agio agio totale al momento questo è perché sei una tigre accovacciata devi andare a ottenere qualcosa sempre non c'è niente da ottenere se ti siedi qui la tua vita è completa ora è a suo agio agio totale quando è così a suo agio diventerà percettiva ora il solo dedicarsi a una professione fare soldi o anche essere gioiosi essere amorevoli o innamorarsi niente significa nulla per te perché semplicemente sedendoti qui il livello più alto di piacevolezza accade in te allora cosa faresti con quella vita naturalmente esploreresti qualcosa che non è nella tua percezione al momento è così che il processo spirituale inizia è così che prendi il controllo della tua vita ora desideri qualcosa è accaduto voglio che tu sappia questo per la maggioranza delle persone almeno il 50 per cento di ciò che desiderano accade è solo che si stanno concentrando su alcune cose che non sono accadute se vuoi essere onesto in una società ragionevolmente ben stabilizzata il 90 per cento di ciò che desiderano accade è del 10 per cento che si lamentano si ci siete non è così il 90 per cento della tua vita sta accadendo nel modo in cui vuoi del 10 per cento ti stai lamentando non ti godi mai il 90 per cento perché questo 10 per cento non è accaduto come volevi sì quindi in larga misura hai già il controllo del tuo destino un po va storto ma quel poco può darti fastidio diciamo che devi guidare per cento chilometri per 90 chilometri si è andato bene dove volevi andare al 91esimo chilometro hai un guasto comunque non va bene non è così è per questo che si lamentano non dico che si lamentino per niente perché per 90 chilometri è andato tutto bene poco prima di arrivare qualcosa si è rotto quindi ne soffrono ancora ora al momento questo è perché le situazioni accadono intorno a noi non tutte le situazioni accadranno mai nel modo in cui vogliamo perché una situazione non riguarda solo me una situazione con così tante persone coinvolte così tante forze coinvolte non tutte devono accadere a modo mio ma se io sto accadendo a modo mio sono beato ok che la pallina da golf voli dritta che vada nelle montagne sono comunque beato finché stai giocando a golf anche se non sto giocando giusto quindi arrivando a questo ora finché le cose accadono a modo tuo e sei sulla tua strada e sei beato no 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 non dico finché le cose accadono a modo tuo sarai beato se sei beato non importa in che modo accade giusto in qualunque modo accada sei beato vedi questo è essenzialmente il mondo ha messo il carro davanti ai buoi dimmi è più facile prendere il controllo di te stessa o è più facile prendere il controllo di tutte queste persone è più difficile prendere il controllo di te stesso fa prendere il controllo di queste persone questo perché le persone non realizzano di dover prendere il controllo di se stesse e vogliono prendere il controllo di società comunità persone cercando di cambiare adesso sei seduta qui è più facile prendere il controllo di te stessa o di tutte queste persone stessa stessa devi fare questo innanzitutto no ciò che è semplice e facile se prendi il controllo di te stessa vediamo quanta cooperazione possiamo ottenere da queste persone però quando dici che sei alla ricerca della felicità che significa che vuoi che tutti loro funzionino come vuoi tu ora quando diciamo se questo accade sarò felice se quello accade sarò felice ciò che significa è che il mondo dovrebbe funzionare l'universo dovrebbe rispondere a modo tuo non è quello che sto dicendo no io non credo in questo perché significa cercare di mettere condizioni a tutto ciò che questo è come dovrebbe funzionare secondo me quello che stavo dicendo era che ok per esempio un esempio molto semplice di qualcuno che vuole diventare un attore o un giocatore di cricket prendo un esempio molto semplice di ciò che vuoi fare nella vita e tu diciamo che non è successo non è successo cosa significa alla gente non è piaciuto il tuo recitare ai selezionatori non è piaciuto il tuo cricket qualcosa è successo quindi ciò che volevi non è successo puoi comunque sederti qui beato questa è la domanda non molte persone possono farlo ciò che stai cercando di fare quando dici a tutti dovrebbe piacere ciò che faccio in qualche modo devi prendere il controllo delle loro mente ecco cosa stai facendo in qualche modo tramite il tuo cinema o quant'altro in qualche modo stai prendendo il controllo della loro mente e fai ciò che loro interessa ed è per questo che funziona non è così altrimenti non funzionerebbe giusto quindi cos'è più facile prendere il controllo di questo o prendere il controllo di loro questo se prendi il controllo di questo ora non sei alla ricerca della tua felicità non sei teso riguardo nulla non c'è sai nessuna spada che pende sulla tua testa farai ogni cosa al massimo completamente perché non ti importa cosa accade qualunque cosa accada starai comunque bene questo lo sai ora naturalmente farai ogni cosa meravigliosamente bene perché non c'è assolutamente nessuna preoccupazione perché non hai più interessi personali farai ciò che è necessario senza alcuno sforzo quindi ciò che qualcuno pensa essere un grande circo è un'impresa lo farai gioiosamente giocosamente giusto giusto quindi hai appena negato completamente il fatto che esista una legge dell'attrazione non c'è niente del genere sono certo che molte persone sono attratte da te non quella legge dell'attrazione che l'universo ti dia ciò che vuoi ma comunque no dove l'universo chiedo giusto siamo una parte dell'universo quando da degli oghi fu chiesto dai sette saggi che oggi sono noti come i sattarisci chiesero dove inizia l'universo dove finisce quanto è grande che cos'è allora lui rise e disse posso imballare il tuo intero cosmo in un semi di senore è un imballaggio molto efficiente non è così molto molto quindi siccome ciò che pensi essere tempo e spazio è per via della natura della tua mente ciò che se trascendi le limitazioni della tua mente logica ciò che è qui e lì ciò che lì e qui ciò che dopo è adesso ciò che adesso e dopo ogni cosa tempo e spazio si confondono completamente nella tua percezione giusta quindi quando ciò accade allora non parli con l'universo coloro che non sono in buoni rapporti con i propri vicini parlano con l'universo